A voi tutti ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione di Nuova Televisione. Ancora nessuna traccia ad orizzano dei Neospark, i nuovi dispositivi elettronici per i parcheggi a pagamento. Intanto ieri in Consiglio Comunale non è passata la proposta dell'Udc per l'istituzione del tagliando di cortesia. L'attesa continua a Neospark ancora latitanti ad Oristano. Dei dispositivi elettronici che a partire da marzo avrebbero dovuto migliorare il servizio di parcheggio a pagamento in città, neppure l'ombra. L'ultimo aggiornamento li vuole in fase di configurazione presso la casa produttrice. Entro la settimana prossima dovrebbero essere pronti, hanno fatto sapere al comune di Oristano da Genova. Ma a questo punto anche l'assessore competente Gianluca Muguedo ci va coi piedi di piombo. A questo punto ci auguriamo, dice, di averli disponibili entro il mese di maggio. Nel frattempo si lavora sull'altro fronte, quello dell'applicazione per smartphone. Esiste già, si chiama Easy Park ed è possibile scaricarla. Anche se, fino a quando gli ausiliari non saranno dotati dei telefoni per poter gestire il servizio, è pressoché inutile. Questa mattina, spiega Muguedo, è stato presentato l'ordine per l'acquisto dei dispositivi. Sarebbero dovuti essere 17, per il momento sono 10. Di parcheggio a pagamento si è parlato anche nell'ultima seduta del Consiglio Comunale. L'Assemblea ha esaminato la proposta dell'Udc per l'istituzione del tagliando di cortesia. Ma i voti dell'opposizione, sommati a quelli di Giampaolo Lilliu, Marco Piras e Mariangela Massenti, non sono bastati per l'approvazione. I prelievi di sangue e il trasporto dei campioni biologici nelle sedi di Mogoro, Villa Sant'Antonio e Laconi, sono già stati ripristinati. Ad Ales l'attività è stata sospesa per un solo giorno, ma in nessuna di queste sedi è previsto alcun blocco futuro. Parola dal commissario straordinario dell'Asla di Oristano, Maria Giovanna Porcu. Nei giorni scorsi si sono verificati dei disguidi a causa della malattia grave ed improvvisa di uno degli operatori addetti al trasporto dei campioni ematici, dichiara la dottoressa Porcu. La nostra azienda si è però attivata immediatamente per ripristinare il servizio attraverso misure organizzative, eccezionali e straordinarie che hanno consentito di riattivare i prelievi ad Ales dopo un solo giorno e di riprendere l'attività come previsto dal calendario. Già ieri a Mogoro, nei prossimi giorni anche negli altri centri. Lutto nel mondo della cultura, Pinuccio Sciola, lo scultore sardo famoso per le sue opere realizzate con le cosiddette pietre sonore, è morto oggi all'età di 74 anni. Noi vogliamo ricordarlo così. E' dai suoni, questi suoni che sono i suoni dell'universo. Naturalmente si sono uniti a questa fantasia della musica, di queste mani meravigliose, quali protesi del cervello, questo non mi stancherò mai di dire. Noi vogliamo ricordarlo così. Nuovo appuntamento nell'ambito del progetto destinato agli operatori turistici Destinazione Orissano. Oggi si è parlato di Sharing Economy. Sentiamo. Sharing Economy, per chi non mastica l'inglese, economia della condivisione. Di fatto nuova frontiera nel settore del turismo, anche se con punti di vista differenti e soprattutto solo a determinate condizioni, come è precisato dal direttore generale di Federalberghi. Nel punto di vista di Federalberghi su questo è molto chiaro. Stesso mercato, stesse regole. Noi non ci opponiamo alla diffusione della Sharing Economy. Richiediamo, pretendiamo che gli operatori della Sharing Economy siano chiamati nel rapporto con la clientela a garantire il rispetto delle stesse regole. Parlo di regole che tutelano il cliente, quindi l'igiene, la sanità, la sicurezza. Parlo di regole che tutelano la cittadinanza. Regole che tutelano la concorrenza. Perché se io sto sul mercato e rispetto alcune regole basilari e devono rispettare anche gli altri. Regole che tutelano lo Stato. Perché se io pago le tasse le pago alla collettività che restituisce a tutti. Concetto ribadito nel corso del seminario e inserito nel progetto Destinazione Oristano. Percorso formativo per operatori turistici promosso dal pato territoriale in collaborazione con la provincia e il Consorzio 1. Regole certe chiedono gli albergatori alle prese con un nuovo tipo di concorrenza. Quella dell'home sharing. Io con molta passione e con molto piacere cerco il più possibile di trasmettere quello che ogni giorno respiro attraverso i clienti che arrivano da ogni parte del mondo. e apprezzano il nostro territorio. Attraverso questa opportunità, questo ci tengo a dirlo perché è proprio una delle parti più belle dell'home sharing, io ho potuto riscoprire la Sardegna con occhi diversi. E ho visto la Sardegna attraverso le loro immagini. Mentre condividiamo con loro un tè o un caffè o proprio stiamo con loro nelle stanze a chiacchierare di come hanno trascorso la loro giornata. I locali da ballo del territorio della Camera di Commercio di Nuoro e insieme per garantire un servizio di qualità. Nella mattinata di oggi i gestori hanno firmato un codice di comportamento a garanzia della clientela. Sentiamo Gianfranco Locci. Un settore importante che funziona soprattutto d'estate. Di fatto un laboratorio del sorriso, intriso di musica e svago, che permette a 15 imprese di garantire oltre 300 posti di lavoro nel territorio della Camera di Commercio di Nuoro. I locali da ballo si mettono insieme per offrire un servizio di qualità e firmano un codice di comportamento che consente di attenersi a regole che fanno sì che la loro attività nei confronti dei giovani che frequentano i locali da ballo o le discoteche sia improntato alla massima sicurezza e alla prevenzione. Un sindacato per fare squadra, discoteche e locali da ballo puntano sul divertimento, come sempre ma con un occhio di riguardo alla clientela. Così il nuovo codice di comportamento pone alcune priorità, lotta alla tossicodipendenza e all'alcolismo, quindi tutela del lavoro minorile e sicurezza stradale. Insomma i gestori dei locali notturni si adeguano e puntano sulla professionalità. Che benefici per le discoteche del territorio? Innanzitutto quello dell'instaurare una collaborazione intensa, se non magari più intensa di quella che è stata precedentemente con tutte le istituzioni presenti sul campo che ci aiutano quotidianamente a portare avanti il nostro lavoro. Questo vuol dire che tra l'altro tutte queste strutture che aderiscono al sindacato sotto Confcommercio hanno deciso di interagire con le forze dell'ordine, con la polizia, i carabinieri, i vigili del fuoco per poter gestire in maniera adeguata, per prevenire anche tutti gli eventi che sono conseguenti spesso alla frequentazione delle discoteche. Una novità che soddisfa parecchio i gestori delle discoteche. Perché? Quello che vogliamo all'interno dei locali e quello che diamo nel mondo della notte è soprattutto il divertimento. Senza rischi? Senza rischi. Che miglioria porterà nell'immediato? Che sicuramente il personale delle discoteche sarà ulteriormente formato proprio per prevenire queste attività, che la polizia, i carabinieri e le forze dell'ordine in generale saranno maggiormente a contatto con le nostre strutture in modo tale da garantire la massima sicurezza di intervenire in casi di situazioni difficili. E a proposito di divertimento e di musica, questa sera alle 21 e in replica alle 23, come sempre, una nuova puntata di Effetti Sonori, ospiti in studio e di pensieri. Ricordiamo anche a chi se le fosse perse che tutte le puntate sono visibili sul nostro canale YouTube nuova televisione. Effetti Sonori, nuova TV, scusate. A proposito, insomma, dei videoclip, sono curiosa di capire quanto ci è voluto per girarlo, insomma, è sempre impegnativo, secondo me. Posso rispondere? Certo. Allora, la realizzazione dei videoclip ha comportato circa quasi due anni, no? Ma che... Un anno e mezzo, un anno. No, è stato girato il 3 agosto 2015. In un'ora? In un paio d'ora. Sì, perché bisognava evitare il tramonto, cioè più che altro la notte. A Santa Giusta fervono i preparativi in onore della Santa. Allora, si comincia oggi, vediamo il programma. Inizia oggi la prima serie delle manifestazioni appunto inerenti festeggiamenti con l'accensione del falò alle 21.30 che è proprio l'atto di inizio di queste tre giornate. A seguire l'accensione del falò ci sarà la premiazione dei carri che hanno contribuito a portare la legna per l'accensione del falò e ci sarà Ballaranda Folk che è un gruppo folkloristico che accontenta appunto chi è appassionato di balli sardi e di musica folk. Il giorno seguente ci saranno le manifestazioni innanzitutto religiose. Alle 10 di mattina si partirà con la processione per le vie del paese. seguirà la messa solenne che verrà celebrata da Monsignor Mario Carrus, da Monsignor Antonino Zedda e da Monsignor Paolo Ghiani che è l'attuale parroco della Basilica e la messa poi verrà trasmessa alle 17 appunto su Telenova che ci sta ospitando. seguirà il concerto di RAF col suo tour nazionale e i fuochi artificiali dalla ditta Morsani di Rieti che è famosissima a livello internazionale per aver vinto anche i campionati mondiali in collaborazione con la ditta dei fratelli Massa di Serdiana. Il giorno a seguire invece ci sarà innanzitutto un concerto alle 18 del coro dei ragazzi della Scuola L'Enola d'Arborea diretta da Antonello Manca ci sarà un altro concerto di un altro gruppo di ragazzi questa volta accompagnato da strumenti musicali di Antonio Salis e Fabrizio Meli e poi durante la notte invece sarà la volta di Sara Grimaldi che è stata la cantante e solista di Zucchero Fornaciari di James Thompson che è stato il suo sassofonista e di altri gruppi un sassofonista famosissimo a livello mondiale ed è la Rocco Sugar in Voodoo Band il cui cantante che si chiama Rocco Magnante ha vinto come miglior sosia d'Italia di Zucchero ad intervallare questo spettacolo ci sarà Gianluca Fubelli che è un comico famosissimo di Colorado Caffè insomma un programma davvero ricco dal prossimo 16 maggio in provincia di Oristano partirà la nuova campagna di prevenzione informazione dell'Unione Italiana dei Ciechi e dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità quest'anno sarà dedicata alle maculopatie ossia patologie della parte centrale del retina la campagna prevede 11 appuntamenti in altrettanti centri del territorio dove una unità mobile oftalmica un medico oculista visiterà gratuitamente i pazienti si inizia il 16 maggio a Paoli Latino in piazza Giovanni XXIII dalle 9 alle 13 la cerimonia giapponese del tè a Proda a Bosa sulle rive del Temo tutto merito di un'associazione culturale ci spiega tutto Pier Gavinovacca ancora una volta sulle sponde del Temo a Bosa a Proda un tocco d'Oriente artefice come al solito l'associazione culturale Olistica Miva che dopo i bonzi tibetani con il loro mandala di sabbia ha portato la cerimonia giapponese del tè due distinte signore nipponiche fasciate da loro kimono hanno spiegato il significato di un vero e proprio rito che viene praticato con gli ospiti quando viene offerto l'olio il tè la cerimonia viene tutta in un silenzio quasi religioso prima si gusta un dolce composto con fagioli rossi poi viene distribuito il tè con gesti lenti e sempre uguali per ogni ospite a partire dal riscaldamento dell'acqua la preparazione tazza per tazza della bevanda la pulizia simbolica delle tazze tutto sempre in grande silenzio e concentrazione l'usanza hanno spiegato le signore giapponesi stava andando in disuso in tutto il Giappone ma pare che invece sia ancora vivo nella regione di Chiotto il tè viene servito più volte in piccole quantità se la compagnia è invece antipatica la tazza viene riempita fino all'orlo ed è segno che te ne devi andare per assistere alla cerimonia sono arrivati da tutta la Sardegna Cagliari comprese l'associazione olistica MIVA che pratica alcune attività orientali ha in programma altre attività del genere prima di chiudere vi ricordo che domani il gremio dei contadini festeggia Santa Isidoro Agricoltore la Santa Messa sarà celebrata alle 19 presso la chiesetta di Santo Gioanevroris con questo è davvero tutto vi ringrazio per l'attenzione e appuntamento alle prossime edizioni grazie a tutti